Ciao a tutti e bentornati. Qualche tempo fa avevo promesso di cominciare una nuova rubrica, avevo fatto anche la prima puntata, in cui avrei letto e spiegato uno dei miei libri preferiti nella vita, uno dei più importanti scritti nel Novecento, cioè The Grapes of Wrath di John Steinbeck. Capitolo per capitolo, è giunto il momento di cominciare. Allora, questa è l'edizione originale, mentre questa è l'edizione italiana, uscita nel 2013 per Bonpiani, ed è la prima edizione, appunto quella uscita nel 2013, dieci anni fa, che comprende una traduzione integrale dell'opera. Quello che avevamo fino al 2013 era una versione ridotta e ripulita, tra virgolette, del romanzo, perché venne pubblicato nel 1940 in Italia, fondamentalmente dal regime fascista in funzione anti-americana, e quindi tutte le parti, in realtà, visto che si tratta di un romanzo fortemente politico e fortemente orientato da una parte, tutte le parti del romanzo che indicavano, che parlavano sostanzialmente di sindacalismo, comunismo, eccetera, eccetera, sono state tagliate ed eliminate. Questa edizione del 2013, ripeto, questa qui, è un'edizione integrale, e quindi, ovviamente, se volete leggere il romanzo e non avete la voglia, le capacità di leggerlo in inglese, questa è l'edizione che dovete cercare. Ora, primo capitolo. Il primo capitolo è piuttosto breve e serve per raccontarci, per presentare un po' alcuni dei primi punti fermi con cui avremo a che fare durante l'intera opera. Il romanzo è un romanzo piuttosto lungo, si vede dallo spessore del libro, è un'opera sostanzialmente dal tono epico e quasi biblico, per certi versi, che racconta di migranti e migrazioni negli anni 30, dopo la crisi del 29. E quindi questo primo breve capitolo ci comincia a dare alcuni punti di riferimento. La struttura del romanzo è fatta di 30 capitoli divisi all'incirca alternati. Non è vero sempre, ci sono alcuni capitoli in cui, in capitoli vicini, nel capitolo successivo, si continua a parlare dello stesso argomento, ma all'incirca, nei capitoli dispari, almeno all'inizio, viene raccontata la storia generale della situazione, mentre nei capitoli pari si parla della famiglia Jode, che è la famiglia protagonista della vicenda, è quella che poi sostanzialmente John Ford, la parte che sostanzialmente John Ford riprende, quando nel 40 gira il film tratto dal romanzo. Quindi questo primo capitolo in realtà è un racconto generale ed è un racconto molto breve che descrive sostanzialmente il fatto che i contadini, e la famiglia Jode è una famiglia di contadini, vivono in una situazione assolutamente precaria, perché vivono su una terra consumata e rovinata dall'agricoltura intensiva, in particolare da quella del mais e del cotone. Il cotone in particolare è una pianta che devasta il terreno su cui viene coltivata, e se se ne fa una coltivazione intensiva, è ovvio che il terreno si impoverisce molto rapidamente e diventa improduttivo molto molto presto. E quindi le famiglie di contadini già per questo hanno grosse difficoltà a sopravvivere sul loro terreno, a sopravvivere del proprio lavoro. E in più, negli anni 30, ci si mette un'altra difficoltà, perché le zone centrali degli Stati Uniti, le zone del Midwest, degli stati non direttamente affacciati sulla costa atlantica, ma andando verso ovest, i primi territori che vennero colonizzati e che adesso sono stati, appunto, quelli del Midwest, si trovano in un territorio molto particolare, perché è una enorme piana e che quindi fornisce enormi terreni agricoli, ma è una piana che non presenta ostacoli naturali tra il Golfo del Messico e il Polo. E quindi le correnti calde che vengono da sud, a volte, sempre più spesso a causa del cambiamento climatico, ma piuttosto spesso anche all'epoca, anche negli anni 30, le correnti calde che venivano da sud si scontravano con le correnti fredde che venivano da nord e che arrivavano senza trovare ostacoli naturali e questo creava uragani, trombe d'aria, eccetera, eccetera. Succede anche oggi, basta seguire le notizie, spesso, almeno una volta l'anno, compare la cosa che negli Stati Uniti una tempesta è arrivata a colpire i territori del Midwest e comunque, anche quando non sono le tempeste tropicali, come potrebbe essere l'uragano Katrina che ha colpito la Louisiana e New Orleans nel 2004, se ricordo bene, sono comunque terreni soggetti a, per esempio, trombe d'aria e cose di questo genere. Se si aggiunge a questi fenomeni naturali lo stato di sfruttamento dei terreni legato all'agricoltura intensiva, si capisce che con dei terreni secchi e aridi quando si solleva il vento si creano delle gigantesche tempeste di polvere. Ci sono delle foto di queste tempeste di polvere che fanno paura e il racconto di questo primo capitolo è proprio questo. Viene descritto il terreno che intorno alla primavera, quando c'è un po' di pioggia, diventa verde rigoglioso perché le piante trovano nutrimento che possono crescere ma che con l'arrivo dell'estate e della stagione più secca si secca molto velocemente e quando ci sono appunto gli scontri tra queste correnti calde e queste correnti fredde diventano terreni soggetti appunto alla creazione di queste enormi tempeste di polvere che vengono raccontate con terrore sostanzialmente da Steinbeck perché ci racconta il punto di vista dei contadini che dice per esempio il vento si fece impetuoso si infilava sotto le pietre scalzava paglie e foglie morte e persino piccole zolle creando dietro di sé una scia man mano che solcava i campi l'aria e il cielo si incubirono e in mezzo a loro il sole fiammeggiava rosso e c'era nell'aria una morsa umida una notte il vento spazzò con più forza ancora la terra scalzando subdolamente le radici del mais e il mais reagì combattendo il vento con le foglie infiacchite finché le radici non furono divelte dall'accanirsi del vento e ogni pianta si piegò sfinita verso il suolo indicando così la direzione del vento venne l'alba ma senza giorno nel cielo grigio apparve un sole rosso un fioco cerchio rosso che splendeva un po' di luce simile al crepuscolo e con l'avanzare del giorno il crepuscolo ricadde verso il buio e il vento lulò sul mais abbattuto i contadini stavano rintanati in casa e quando gli toccava uscire si annotavano un fazzoletto intorno al viso e indossavano occhiali protettivi per ripararsi dagli occhi quando si fece di nuovo sera fu buio pesto poiché la luce delle stelle non riusciva a solcare la polvere per toccare terra e la luce delle finestre arrivava a stento fino all'aia ora la polvere era frammista all'aria in parti uguali un'emulsione di polvere aria ogni casa era chiusa e sbarrata porte e finestre erano tappate con gli stracci ma la polvere si insinuava così impalpabile da essere invisibile in sospensione e si posava come polline sui tavoli e le sedie e sui piatti i contadini se la spazzolavano dalle spalle piccole piste di polvere giacevano sulle soglie la descrizione poi prosegue con la notte che trascorre con il rumore del vento che tiene sveglie le persone che sono chiuse nelle case per proteggersi appunto dalla tempesta di polvere poi nell'ultima scena viene inserito un nuovo elemento fondamentale per il proseguimento della narrazione al termine della tempesta quando arriva l'alba le famiglie escono dalle case per ammirare il paesaggio completamente coperto di polvere e qui ci sono degli elementi importanti perché le famiglie descritte da Steinbeck in questo romanzo sono delle famiglie strettamente patriarcali le decisioni le prendono sempre gli uomini ma ci sono le donne che sono in realtà garanti dell'unità familiare gli uomini decidono e le donne si occupano di mantenere unita la famiglia e di fare in modo che le decisioni vengano messe in atto dopo un po' le facce attente degli uomini persero la loro stupefatta perplessità e si fecero dure e rabbiose e ostinate allora le donne capirono che erano saldi e che non sarebbero crollati allora chiesero che facciamo e gli uomini risposero non lo so le donne capirono che andava tutto bene e i bambini capirono che andava tutto bene le donne e i bambini sapevano dentro di sé che non esistevano disgrazie insormontabili se i loro uomini rimanevano saldi le donne rientrarono in casa per sbrigare le faccende e i bambini si misero a giocare dapprima con discrezione con il passare delle ore il sole si fece meno rosso divampava sulla terra ricoperta di polvere gli uomini sedevano sulla soglia di casa giocherellavano con pezzetti di legno e stazzolini gli uomini sedevano immobili pensando interrogandosi questa è la fine del capitolo e ci dice una cosa fondamentale finché gli uomini hanno sotto controllo la situazione le famiglie rimangono salde ovviamente il romanzo è basato sul fatto che quello che succede è la risposta alla domanda che cosa succede quando la situazione in cui si trovano le famiglie non ha una soluzione o comunque non è una cosa che si può affrontare come si sono sempre affrontate per esempio anche queste disgrazie come le tempeste di polvere le risposte nei capitoli successivi io vi ringrazio per essere arrivati in fondo a questo video vi ricordo che qui sotto trovate il link per acquistare il mio libro sugli U2 che ha da poco compiuto due anni e trovate anche il link per ascoltare su Spotify il podcast in cui racconto un po' di storie di canzoni rock trovate gli stessi episodi anche qui su YouTube e sono tra l'altro tra gli episodi che hanno più successo tra i video che hanno più successo su questo canale vi chiedo se volete di iscrivervi al canale mettere un mi piace lasciare un commento suggerirmi possibili altri argomenti o possibili altre interpretazioni di questo capitolo di The Grapes of Wrath vi ringrazio nuovamente vi ricordo che sono Daniele Funaro che Londra affonda e io vi faccio una fiume ci vediamo la prossima volta e io vi faccio una fiume